altro che milena è lei la persona con cui mario verona è stato beccato dopo uomini e donne ma ecco chi è mario verona è stato uno dei protagonisti di uomini e donne il programma di mediaset che cerca di far trovare l'amore ai cuori solitari come riporta un articolo del sito in abruzzo durante la permanenza al programma ha avuto modo di conoscere tante donne ma sembra che solamente una sia riuscita ad attirare completamente la sua attenzione ovvero milena parisi nonostante ciò però le cose tra i due non sembrano essere andate bene dopo aver avuto un confronto che ha visto i due discutere mario verona è giunto alla conclusione che non vuole avere nulla a che fare con la bella milena e che preferisce continuare a cercare l'amore sapendo che arriverà nel frattempo però è stato beccato insieme a lei chissà come reagiranno alla cosa tina cipollari e gianni sperti loro due sanno molto bene chi è beccato con lei fuori dalle telecamere la persona in questione non è chiaramente milena da quando mario verona ha preso la decisione di non avere a che fare nulla con lei si è spenta ogni possibilità di vedere i due insieme la persona in questione che è presente nella foto è però molto conosciuta nel programma sicuramente infatti vedendola l'hanno riconosciuta tutti per questo ci si domanda quale reazione potrebbero aver avuto gianni sperti e tina cipollari vedendola ma ecco piuttosto chi è un bellissimo rapporto d'amicizia tra lui e renata sebbene uomini e donne sia una trasmissione che si divide in due categorie all the young i suoi protagonisti hanno comunque modo di incrociarsi tra loro e conoscersi fuori dalle telecamere questo è ciò che è successo a mario verona che lontano dalle riprese ha conosciuto lei renata come riporta un post di instagram di mario verona i due si sono incontrati e sembrano anche aver tessuto un bel rapporto d'amicizia lo conferma la foto che li vede insieme che è stata accompagnata da una tenera didascalia sarò di poche parole sei un esempio e dirti che ti voglio bene riduttivo grazie per tante cose che tu sai amica mia che bello il rapporto che c'è tra i due